Sono 247 i positivi da Vietri a Positano con un trend purtroppo in salita. Questi i dati dell'ultimo aggiornamento. 70 casi a Cetara, 59 a Maiori, 34 a Vietri sul mare con un guarito di oggi, 30 a Positano, minori 19, 15 ad Amalfi, tramonti 14, 8 a Scala, 5 a Conca dei Marini, 4 a Ravello e poi gli altri comuni riveraschi con 1-2 casi a testa. Dato che crescerà purtroppo, di sicuro, sono centinaia i tamponi che attendono di essere fatti e poi processati. Ma intanto arrivano in costiera amalfitana importanti novità sul fronte del contrasto alla diffusione del contagio. Una già attiva, una che partirà domani, due sedi di Usca, una dell'ASL itinerante ed una stabile dell'esercito italiano che sarà installata sul porto di Maiori. Quella dell'ASL è già entrata in funzione ieri e oggi sta tamponando i cittadini di Praiano e oggi pomeriggio, nelle prime ore del pomeriggio, quelli di Tramonti. E così andremo avanti nei prossimi giorni rispetto alle liste degli altri comuni. E' un'opportunità importante perché tramite queste due Usca noi riusciremo a seguire tutti i casi positivi nelle varie case ma soprattutto riusciremo a fare i tamponi e quindi ancora più ad avere chiara la condizione di chi deve stare a casa e per poter sempre più cercare di arginare il Covid-19 in costa da Malta. Signor Sindaco, ora vi siete giustamente concentrati sulla pandemia ma c'è un problema ancora più grande, l'economia, il turismo che ha bisogno di programmazione. Lei è anche del settore, lo sa benissimo e questo fa prevedere un 2021 che non è certo incoraggiante per quanto si può prevedere. Sicuramente le do dei dati, le compagnie estere hanno già annullato tutto fino a marzo 2021. Per quanto riguarda il turismo vicinale e il turismo italiano dovremmo organizzarci sperando che si chiuda presto questo aumento di contagi che abbiamo in Campania, dobbiamo organizzarci come abbiamo fatto gli altri anni, certamente non usciremo dalla pandemia per l'estate 2021. A questo punto quindi c'è un'unica soluzione, aiutare il comparto per garantire la sopravvivenza di migliaia di aziende del turismo. Che siano degli aiuti sburocratizzati e che possano arrivare sui conti correnti dei vari imprenditori, dei vari lavoratori in brevissimo tempo e che non avvenga più quello che è avvenuto per la condizione della cassa integrazione e di altre misure degli assegni familiari e di altre misure che riguardano i lavoratori del settore turistico e non solo come è successo durante il lockdown.